Il festival si svolgerà sabato 30 al Cinema Solaris a partire dalle 14 e ci saranno 19 proiezioni di cortometraggi italiane ed internazionale e varie interviste con gli autori, con i registi, con gli attori protagonisti di molti corti. Abbiamo costituito una giuria tecnica di professionisti del cinema, abbiamo Stefano Malchiodi che ha vinto il Davide Donatello per il miglior corto l'anno scorso, abbiamo vari sceneggiatori, il direttore della fotografia fanese Eugenio Cinti Luciani. Il festival è organizzato appunto da me e il direttore artistico Matteo Damiani che è il regista dell'Ultima Festa che è un cortometraggio molto importante girato qui a Fiorenzola di Focara l'anno scorso con il contributo delle Marche Film Commission. Il festival vuole essere una piattaforma nuova per approfondire il dialogo tra il pubblico e gli autori che verranno qui a parlare delle proprie opere perché non dimentichiamo che il cortometraggio è il biglietto da visita per un giovane autore e soprattutto l'incontro con il pubblico è la cosa che noi dall'altra parte, perché siamo noi stessi dei registi, sappiamo essere una delle più importanti. La volontà di allargare questo bacino di utenza, di riavvicinare il pubblico al linguaggio del cortometraggio e al linguaggio cinematografico in generale con la speranza che questo festival cresca e diventa anche un'occasione didattica per i giovani nei prossimi anni con dei workshop, con dei laboratori che possano portare il pubblico e i giovani anche a produrre dei piccoli lavori. Il nostro festival si struttura in due sezioni che sono Band Apart e la Main Category e abbiamo scelto di fare una selezione proprio per questo che non è una selezione solo come succede in alcuni festival per addetti ai lavori, con dei corti magari anche difficili, ma con dei corti in questo caso che siano principalmente narrativi e che possano avvicinarsi al pubblico e con cui il pubblico possa dialogare. Per questo è fondamentale per noi la presenza degli autori che hanno scelto di partecipare alla nostra iniziativa in gran numero di modo che appunto il pubblico possa chiedere, domandare, fare domande, esplorare come questi progetti sono nati. In sintesi, la categoria Band Apart presenta dei cortometraggi sperimentali, più particolari da documentari, corti di animazione, opere prime di anche giovani che si avvicinano per la prima volta al cinema e al cortometraggio. Mentre la categoria Main Category sono dei corti con una struttura più articolata, con dei budget più grandi, abbiamo dei corti anche importanti che sono già stati alla settimana della critica come Reginetta e altri corti importanti. Quindi queste sono un po' le due categorie con cui il pubblico si confronterà e nel caso della Main Category potrà anche come, potrà il pubblico diciamo votare, ci sarà una giuria popolare che decreterà il miglior corto. È un piacere ospitarli perché sono tutti giovani ragazzi, anche i corti vengono da giovani ragazzi internazionali, quindi il Cinema Solaris che è sempre aperto alle novità è contento di ospitarli veramente ed è emozionato per questa novità. È un festival quindi rimane biglietto omaggio, entrata libera finché c'è posto e vi aspettiamo tutti sabato e dalle due fino in turnover. Stiamo ancora cercando tra l'altro di costituire la nostra giuria popolare per cui chi volesse partecipare, chi ama il cinema, chi insomma è un appassionato di film e serie tv può iscriversi mandando semplicemente una mail all'indirizzo che troverà sulla nostra pagina principale che è quella di Instagram.